Il Natale Dei giorni nostri è diverso si sa La frenesia, il consumismo sembra aver preso sopra il vento qua Le luci sono ancora accese ma lo scopo è cambiato Più che la magia sembra che l'importante sia il regalo più ammirato Ma in mezzo a questa frenesia c'è ancora chi crede Nel potere dell'amore, della generosità, della bontà che spesso si concede Il Natale ai giorni nostri può essere diverso e vero Ma la gioia e la humanità possono ancora aprire il cuore di chi è sincero La vera essenza del Natale sembra essersi persa Tra codici scontoliste desideri ed offerte immense Tecnologie ci avvolgono connesse al Natale E auguri si mandano con un click senza nemmeno un brindisi finale Le tradizioni stanno cambiando adattandosi ai tempi moderni Ma non dobbiamo scordare i valori che tengono uniti i nostri cuori Il Natale ai giorni nostri può essere anche virtuale Ma il salore dell'affetto, l'importanza delle relazioni non debbiamo cambiare Un messaggio di buon augurio può comunque scagliare il cuore Far sentire vicino chi è lontano e donare un po' d'amore Spero che il Natale ai giorni nostri ci ricordi di rallentare il tempo Di apprezzare le piccole cose e condividere ogni gesto d'amore Non perdiamo mai di vista il vero significato E il Natale sarà sempre un'occasione speciale Unico e rinnovato